Salve a tutti, sono Marco Taparini, della fattoria La Redola Verde. Siamo in Umbria, a Montefalco, il mare del Sagrantino. Noi però ci occupiamo di allevamento di pecore e della trasformazione del latte in vari pecore freschi e stagionati e con varie affinature. Inoltre alleviamo il Maiali Cintasenese allo Stato Prado in grandi spazi aperti. Aspettando tutti che l'emergenza finisca, restiamo a casa e noi ti portiamo a Umbria. Grazie a tutti.